Quando un padre Quando un padre è un film drammatico del 2016 diretto da Mark Williams, con Gerard Butler, Gritken Moll, Maxwell Jenkins, Willem Dafoe, Aliso Mbrier, Anupam Kerr, Alfred Molina, Dustin Milligan, Julia Butters. Tramma. Dan Ejensen è un cacciatore di teste in una famosa agenzia americana. Il suo lavoro è quello di trovare il lavoro agli altri papà, o almeno è così che la racconta lui ai suoi figli, per giustificare il fatto che non è mai a casa. Dan si trova in un momento un po' particolare della sua vita, dove il suo capo lo mette in competizione con la sua collega e rivale Lin Vogel. Dan dovrà infatti battere la sua collega come numero di contratti chiusi, per poter così avere il ruolo del capo. Tutto questo lavoro ovviamente allontanerà ancor di più Dan dalla sua famiglia. Recensione. Quando un padre è film drammatico sul mondo del lavoro, con il bravissimo attore Gerard Butler nei panni del protagonista e padre di famiglia. Le tematiche di questo film sono il lavoro e la famiglia, due temi che purtroppo non sempre vanno a braccetto. Meglio la carriera o la famiglia? Sarebbe meglio entrambi, ma il protagonista si troverà a dover fare delle scelte molto difficili, per decidere cosa sacrificare. A volte però nella vita basta solo pensare alternativo, o comunque sforzarsi per cercare di trovare una soluzione che vada bene per tutti. Un altro tema di rilievo trattato in quando un padre è il discorso della moralità. Alcuni lavori sono davvero spietati, e tendono a trattare le persone come semplici numeri. Davvero una bella pellicola, da vedere.